A mio parere il fattore determinante per riuscire a cogliere le opportunità date dal progresso e dalla digitalizzazione è quello delle persone, delle risorse umane in azienda con le loro capacità e le loro peculiarità. Spesso si sente dire che le aziende devono essere guidate dai dati, data drive, e io trovo che le aziende devono essere guidate dalle persone e orientate dai dati, solo in questo modo si riusciranno a cogliere veramente le opportunità e a vincere le sfide del futuro. Per vincere le sfide del futuro e dell'innovazione, questi nuovi modelli come quello di H-Farm sono fondamentali perché vanno a rompere i confini, quando si parla di innovazione non si possono porre dei limiti e dei confini, quindi unire l'impresa, unire l'imprenditoria, unire l'università, centri di ricerca, la formazione, la politica, al business e agli investimenti diventa fondamentale, sempre più centri di questo tipo saranno centri in cui si potrà fare veramente innovazione. Quindi il punto fondamentale che secondo me racchiude il concetto di H-Farm è quello di contaminazione, che deve essere alla base di qualsiasi innovazione.